Sì, è sempre soddisfacente battere i ragazzi sui blocchi. Ciao, sono Camilla, ho 22 anni, faccio parte della Nazionale Italiana di Arrampicata. Gli allenamenti invernali stanno andando bene. Per quanto mi riguarda, io mi sono concentrata di più sulla parte tecnica dei blocchi, grazie anche al supporto della Nazionale che ci ha fornito appunto dei blocchi adeguati qua al centro federale del Big World. Adesso abbiamo due gare di qualifica, la prima sarà a maggio a Shanghai e l'altra a giugno a Budapest. Verrà stilato un ranking finale dove i primi dieci atleti, sia femmine che maschi, accederanno alle Olimpiadi, quindi avranno il ticket olimpico. Sì, allenarsi insieme è sempre bello perché è stimolante. Penso che sia molto più efficace allenarsi in gruppo che allenarsi da soli, perché riesci sempre ad avere un feedback dagli altri compagni di squadra. Riesci anche a trovare, ad esempio, nuove metode sui blocchi, o a capire i tuoi punti deboli rispetto agli altri ragazzi o ragazze. Essere un gruppo, essere anche un gruppo di amici, è bello perché possiamo trascorrere tempo insieme e soprattutto ci motiviamo e scherziamo anche prima e durante le gare. Penso che sia bello anche un po' per alleggerire la tensione delle gare. Se mi trovassi in una finale contro Philippe, sicuramente vincerei. Prima cosa. Cosa temo? Un blocco di black. Sì, però la gancia di punta. Se c'è la gancia di punta, Philippe mi batte sicuramente. Però mentalmente lo distruggo.